lucifero figlio del mattino è lui che porta la luce che ci crediate o meno questo è l'inizio del grande segreto dio è il diavolo e siamo già all'inferno proprio adesso aljan jurek conosciuto meglio come aljan child è un artista australiano che è stato in testa alle classifiche dopo aver vinto la seconda stagione x factor in australia nel 2010 il 15 ottobre di questo anno aljan ha pubblicato un video di 5 ore affermando che è stato iniziato nella massoneria e che la massoneria nasconde la vera religione del mondo il satanismo ha proseguito rivelando come ogni iniziato deve fare voto di giuramento segreto di non rivelare mai segreti della massoneria a nessuno pena il taglio del corpo a metà e la carbonizzazione delle budella in cenere la gola aperta e la lingua strappata dalle proprie radici questo è il gesto che si fa entrando ed uscendo dalla stanza di rituali quando si incontra il grande maestro sta per ti taglio la gola e sta per questo l'uso dei gesti simbolici è per far sapere la loro religione segreta così come il gesto del maestro del secondo velo o della mano nascosta il segno del silenzio alzandosi di grado nella massoneria i giuramenti di silenzio per ottenere ranghi più elevati diventano più brutali il cuore viene strappato per sfamare animali selvatici la testa recisa è messa in vista sulla più alta guglia cristiana viene distrutta la propria attività e la reputazione oltre ad impiccarvi nella propria casa per la visione completa del video cercate su indice alfabetico la voce illuminati svelati al pubblico o dal menu a tendina che trovate sul sito web www.tinelli.eu sulla prima piattaforma alternativa cercando il video con la data del 29 giugno 2022